In manette e i ladri responsabili di diversi furti in case disabitate a Marina di Ragusa e tre catanesi incastrati da tracce di sangue e due orologi da bambino. Una piaga sempre più dilagante, quella della dispersione scolastica. 50 genitori di scicli denunciati dai carabinieri a segnalare l'assenza dei bambini, vari dirigenti scolastici. A Ragusa non c'è persona che non conosca il 6x3 più discusso e famoso della storia della pubblicità cittadina. L'immagine appare ovunque, gratis e registra con divisioni record sui social. Pubblico divertito per lo spettacolo teatrale della compagnia Godot che ha portato in scena il terreno delle meraviglie. Anche un omaggio al Rodari con il nuovo vestito dell'imperatore. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di Tg74. Apriamo oggi con un'ampia pagina di crona che iniziando dalla conferenza stampa di questa mattina al comando provinciale dei carabinieri fatta luce su una serie di furti che si sono registrati a Marina di Ragusa. Gli autori erano ladri provenienti dalla provincia di Catania che approfittavano delle case disabitate in periodo invernale per saccheggiare qualsiasi cosa. Marina di Ragusa quasi totalmente disabitata durante il periodo invernale e quindi territorio fertile per i ladri molti dei quali provenienti anche da provincia limitrofe. Furti difficili da scoprire nell'immediato visto che generalmente i proprietari degli immobili depredati scoprono il furto solamente alcune settimane se non mesi dopo rendendo quindi ancora più complicate le indagini da parte delle forze dell'ordine. Certamente sfortunati quindi i tre topi d'appartamento che la notte del 13 dicembre 2017 dopo essersi introdotti in bene sei appartamenti del villaggio Torre di Mola a Marina di Ragusa ed aver rubato vari elettrodomestici poi caricati in un furgone furono notati da una guardia giurata che in sospettita ha preso nota della targa per poi recarsi sul posto e constatare i segni evidenti del furto appena avvenuto. Porte aperte, finestre rotte, infissi danneggiati e anche alcuni elettrodomestici lasciati all'esterno. Avvisati i carabinieri, i tre ladri sono stati quindi subito rintracciati e fermati a bordo del furgone mentre percorrevano la provinciale 25. Della refurtiva nessuna traccia mentre i militari hanno invece rinvenuto alcuni orologi per bambini di scarso valore ai quali però avevano scattato comunque una foto. Sono stati proprio questi orologi giocattolo e le tracce di sangue trovate nelle varie abitazioni svaliggiate a incastrare i tre ladri, tutti di scordia e di età compresa tra i 27 e i 38 anni. Gli orologi sono stati infatti riconosciuti dai legittimi proprietari incanalando le indagini sui tre individui fermati la stessa sera sulla Ragusa Mare. Le tracce del DNA hanno infine confermato tutti i sospetti. Per fortuna in questo caso parliamo tutti di tentati furti perché i ladri sono stati messi in fuga al momento del furto e quindi hanno lasciato l'area furtiva all'esterno delle abitazioni. Tutti gli elettrodomestici e gli oggetti che avevano accumulato per portarli poi successivamente via. I nostri controlli sono quotidiani e costanti, non abbassiamo sicuramente la guardia, non sono sicuramente solo loro i ladri che colpiscono la zona ma sicuramente ci possono essere anche altri autori dello stesso tipo di reato. E ora a Scicli dove sempre i carabinieri hanno denunciato 50 genitori perché non portavano i propri figli a scuola a denunciare ai militari le continue assenze dei bambini. Sono stati vari dirigenti scolastici. Dispersione scolastica piega sempre più preoccupante in territorio ebleo, fenomeno che non si registra solo nell'Ipparino e non riguarda solo nuclei familiari, ma coinvolge e abbraccia tutte le famiglie. A Scicli sono 50 le persone recentemente deferite dai carabinieri in stato di libertà alla procura di Ragusa per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. L'attività dei militari dell'arma ha preso le mosse dalle segnalazioni svolte dai solerti dirigenti degli istituti scolastici cittadini che a seguito delle ripetute assenze dalle elezioni hanno indicato i giovanissimi che non partecipavano senza giustificato motivo alle attività didattiche della scuola dell'obbligo. Le indagini durante diverse settimane hanno permesso di accertare che ben 25 nuclei familiari, sia italiani che stranieri, non hanno temperato all'obbligo di istruzione dei giovanissimi. Sono stati quindi deferiti entrambi gli esercenti la potestà genitoriale. Le storie che sottendono ad ognuna di queste situazioni sono diverse. C'è il giovane che aiuta nel lavoro la famiglia, quello che invece è costretto a restare a casa per sbrigare le faccende domestiche durante l'assenza dei genitori, o chi invece magari ha da badare a fratellini più piccoli. Tante micro realtà con comunque un solo comune denominatore, la scarsa percezione dell'utilità della frequenza della scuola dell'obbligo, che si percepisce spesso in famiglie di bassa estrazione sociale. L'attività è dimostrazione di sinergia con le istituzioni scolastiche cittadine, che hanno segnalato con attenzione i vari episodi di dispersione scolastica, nonché la sensibilità dei militari nel gestire delicati episodi che afferiscono la sfera delle scelte educative dei figli. Ed un immobile parzialmente abusivo è stato posto sotto sequestro ieri dalla Polizia stradale a Vittoria su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. La struttura era adibita a officina meccanica, già segnalata in una precedente operazione risalente a giugno 2018. In quel periodo furono portate in luce diverse irregolarità legate all'abusivismo edilizio. Cambiamo argomento, approva dall'Arsi il rinvio delle elezioni nelle ex province con 31 voti a favore, 0 contrari e 2 astenuti. Il disegno di legge è passato, i deputati del Movimento 5 Stelle non hanno votato e si voterà quindi tra il 15 settembre e il 15 ottobre. E siamo a bene 15, 15 rinvii da quando le province furono abolite. Enesimo stop ieri che porta l'Arsa ad entrare nel libro del record riguardo un appuntamento sempre più annunciato e sempre più disatteso, quello per le elezioni per le ex province. Voto annunciato ad aprile ma adesso ufficialmente slittato tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Così ha deciso l'Assemblea regionale siciliana. Ieri tutti i voti favorevoli ma i deputati del Movimento 5 Stelle che avevano votato contro anche in commissione sono usciti dall'aula. Rinviare in continuazione rende tutta la vicenda una barzelletta. Ha commentato Giannina Ciancio del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione Affari Istituzionali. Risolto invece per il governo regionale il problema dei possibili ricorsi. Se si fosse votato il 19 aprile come previsto infatti avrebbero votato comuni siciliani che non hanno ridotto il numero di consiglieri incorrendo in uno squilibrio che avrebbe posto le basi di possibili ricorsi. Votando in autunno i comuni non ancora allineati con la riduzione del numero dei consiglieri si ricorda che a votare per i consorsi a città metropolitane sono appunti i consiglieri lo saranno dopo le prossime amministrative di maggio. In attesa delle elezioni scatterà una proroga degli incarichi per i commissari che al momento reggono le sorti degli enti. La legge ha ottenuto 31 voti favorevoli e 2 astenuti. Tutto chiaro se non fosse per un problema che si registra proprio in provincia di Ragusa ed evidenziato dal deputato Claudio Fava. Vittoria è commissariata per mafia e andrà ad elezioni a novembre. Solo pochi giorni dopo verrebbe penalizzato così un quinto della popolazione della provincia di Ragusa. Servono senza dubbio degli approfondimenti ma certo persiste il problema che le ex province resteranno senza guida democratica. Intanto per garantire maggiore democraticità in enti che non godono più di rappresentatività da due anni è stato previsto di inserire entro aprile le assemblee dei sindaci dei liberi consorsi della città metropolitane per garantire collegiabilità e partecipazione migliorando l'attività delle ex province già prima delle elezioni di secondo livello ha spiegato il capogruppo del PD Giuseppe Lupo illustrando ai parlamentari dell'ARS un emendamento al disegno di legge sul voto per l'ex province poi approvato anche in aula. E torniamo adesso a parlare della tragedia sul lavoro al mercato ortofrutticolo di Donna Lucata dove due giorni fa è morto il ragioniere Memmo Paolello schiacciato da un muletto. Ieri pomeriggio la CGL di Scicli ha organizzato un'esittina proprio al mercato presente anche il segretario generale provinciale Peppe Scifo. Tema dell'incontro la sicurezza nei luoghi di lavoro la CGL di Ragusa e la Camera del lavoro di Scicli hanno richiesto un incontro per lunedì mattina al palazzo di città al primo cittadino Enzo Giannone per parlare della questione sicurezza e dei problemi legati al mercato ortofrutticolo di Donna Lucata. E restiamo a Scicli dove l'amministrazione comunale da tempo ha dichiarato guerra agli incivili e alle discariche abusive sul territorio. Varie le iniziative messe in atto dall'assessore Bruno Mirabella che ha come obiettivo portare la raccolta differenziata oltre la soglia del 40%. Non si ferma la lotta del comune di Scicli al proliferare di discariche abusive che sporcano e deturpano il territorio. Di recente l'ufficio ambiente ha intensificato i controlli soprattutto nelle aree sensibili ai confini del territorio comunale dove spesso vengono scaricati rifiuti anche dai cittadini di altri comuni. Tante discariche sono state bonificate, molte però dopo pochi giorni sono diventate ancora luogo di abbandono di rifiuti di ogni tipo con l'immancabile pericoloso Eternit. Sono inoltre state installate delle telecamere di videosorveglianza in prossimità delle zone oggetto di stoccaggio illecito di rifiuti e gli ispettori ambientali hanno cominciato il loro lavoro. Bruno Mirabella, terzo assessore della giunta Giannone ad occuparsi del delicato settore dei rifiuti, sembra avere le idee chiare in merito. Tra i suoi obiettivi primari c'è quello di ridurre al minimo le discariche abusive e di portare la raccolta differenziata oltre la soglia del 40%. Di recente Mirabella ha dato appuntamento alle attività produttive e ai supermercati in due incontri pubblici a Palazzo Spadaro per parlare della raccolta differenziata e per pianificare le modalità di raccolta della stessa. I due incontri si terranno il 24 e il 28 febbraio. Inoltre è previsto per giorno 29 a Donna Lucata un altro centro di raccolta temporaneo in cui i cittadini potranno conferire i rifiuti ingombranti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, tre per ogni utenza domestica. La ditta è impegnata a ripulire le 65 discariche che ho segnalato da un mese a questa parte. Diciamo che il processo è lento perché come si può vedere in giro dopo che sono state pulite di nuovo vengono sporcate. Questo è un problema serio. Però faremo in modo con telecamere e sanzioni di tenere e monitorare tutto quanto. Noi abbiamo un'ambizione, abbiamo un progetto, abbiamo una pianificazione dal punto di vista del settore ecologico. Dobbiamo arrivare quanto prima alla raccolta del 40%. Questo ci eviterà i viaggi ad Alcamo e sarà un notevole risparmio per i cittadini ciclitani. E ora parliamo di quella che è a pieno titolo la pubblicità più discussa e famosa che si sia mai vista a Ragusa. L'azienda non ha ancora aperto ma pensate già è famosissima. Intanto chi gestisce lo spazio pubblicitario si dice estraneo ai fatti mentre gli ideatori del messaggio scandalistico sembra non siano intenzionati a rimuoverlo. Guardate. Se lo scopo era far parlare di sé, l'azienda responsabile di tale pubblicità ha pienamente raggiunto e superato ogni obiettivo. A Ragusa non c'è un solo ragusano ma la pubblicità ha pienamente coperto anche tutti gli altri comuni che non conosca questo cartellone. Chi ci passa lo fotografa come se fosse un'attrazione turistica rischiando anche l'incidente pur di postare lo scatto immediatamente sui social con tanto di opinione personale. Magari l'azienda aveva già previsto tutto. Così come il fine giustifica i mezzi, la rivolta cittadina e lo sdegno erano tra gli effetti collaterali calcolati da chi ha ideato e progettato tale 6x3. Di ieri le reazioni anche politiche non solo da parte del Movimento 5 Stelle facendo appello nel buonsenso del sindaco nell'oscurare tale messaggio con annessa foto. Di qualche ora dopo il comunicato stampa dello stesso primo cittadino che oltre ad aver confermato la propria contrarietà a messaggi così di cattivo gusto ha anche comunicato d'aver già inviato una segnalazione all'istituto di autodisciplina pubblicitaria affinché adotti tutti i provvedimenti di propria competenza. Se il giuri sulla pubblicità lo riterrà quindi opportuno attraverso un codice di autodisciplina che lo consente potrà rimuovere la pubblicità a sfondo sessista o comunque offensiva. Ma quello che forse fa più riflettere la presa di posizione nell'azienda ideatrice di tale messaggio pubblicitario con due punti vendita a Raguse e Pozzallo. Proprio loro fanno sapere che non avrebbero alcuna intenzione nel ritirare la pubblicità che farebbe parte di una strategia comunicativa più ampia e che in ogni caso non viene ritenuta un errore. Intanto insieme ai propri legali starebbe anche valutando quale ite a rintraprendere. I proprietari invece dello spazio 6x3 si tirano fuori da qualsiasi polemica affermando che la campagna pubblicitaria è stata pianificata e prodotta da altra agenzia di comunicazione e da un suo cliente commissionario. Infine precisano di essere stati solo fornitori dello spazio pubblicitario. E ora il teatro con la compagnia Godot e lo spettacolo il teatrino delle meraviglie. Un vero ed autentico successo per un mix insolito di due grandi opere. All'interno anche un omaggio a Rodari con il vestito nuovo dell'imperatore. Guardate. 18 attori in scena, una regia avvincente, una scrittura accuratissima. Sono solo alcuni degli ingredienti del successo che nel fine settimana appena trascorso ha ottenuto lo spettacolo il teatrino delle meraviglie di Miguel de Cervantes della compagnia Godot di Ragusa con all'interno un omaggio al grande Gianni Rodari nel centenario della nascita al suo Il Vestito del Nuovo Imperatore. E anche prima. A metà della metà? Io mi stupisco. Niente vedo e niente ci capisco. Che ne dice eccellenza? Due eccellenti autori, due opere solo apparentemente diverse. La compagnia di Vittorio Bonacorso di Federica Bisegna ha stupito il pubblico del Teatro Perracchio di Ragusa in due serate da pienone con questa nuova produzione che unisce due testi così particolari. In realtà il punto di unione è emerso chiaramente durante la messa in scena, applauditissima dalla platea rivertita, ovvero che la finzione non è inganno, ma può essere una lente di ingrandimento per leggere meglio la verità e inventare la vita. Alla base è anche una denuncia. Se Cervantes punta il dito contro l'antisemitismo dilagante nella Spagna della fine del Cinquecento, Rodari si fa beffa delle politiche degli uomini di potere che da padroni del mondo quali vorrebbero presentarsi sono ridotti a vittime di scherno da due esarti che creano abiti con tessuti immaginari. Nesce fuori un'accusa quanto mai attuale al grande male della società, la discriminazione che sia razziale o sociale. Soddisfatto e divertito tutto il pubblico di ogni età che ha trascorso due ore di allegria, divertimento e pura follia accompagnato dalle frizzanti musiche del maestro Pietro Cavalieri. La compagnia si prepara adesso a conquistare il piccolo teatro di Catania dove si esibirà questo fine settimana. E prima di chiudere ancora una notizia. Entra nel vivo il Carnevale a Modica con varie iniziative a scuole nel centro storico. Si inizia oggi con il programma di Mattofficina che ha fatto il giro di alcuni istituti scolastici con carri e banda musicale. Poi sabato alle 15 all'altro comunale con un simpatico mercatino dove trovare di tutto. Alle 16.30 con Antonio Carnemolla dopo il successo di Zelig darà spettacolo con i giochi di fuoco e tanto altro concedendo anche un bis alle 18 in piazza Matteotti. La festa proseguirà con la sfilata delle mascherine. Si continuerà con la festa anche dei coriandoli, la parata dei personaggi dei cartoni e i DJ set anche domenica. Bene, questo è tutto. Non ci sono aggiornamenti, quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie, arrivederci. Grazie.